Buonasera a tutti, buonasera Curmaiora, state bene? Vieni, vieni qui amore 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3... Allora che cosa mi dite? Vi abbiamo fatto una bella sorpresa? Vogliamo dare un po' di magia a questa serata, un po' di musica magica a questa serata? Signore e signori, qui a Courmayeur, Raffael Gualazzi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!